La nostra azienda agricola, Oliva di Castel San Martino, è situata nel sud Italia a Solopaca, in provincia di Benevento. Da quattro generazioni produciamo olio extravergine di oliva di alta qualità. Io, Giovanni, i miei soci Nils, Michele, abbiamo deciso di unire le nostre forze. I miei genitori una decina di anni fa avevano deciso di riprendere in mano questo lavoro. I miei genitori sono venuti a mancare e noi abbiamo deciso di ricominciare a produrre olio extravergine di oliva e quindi loro sogni è diventata ora la nostra passione e la nostra realtà e la nostra quotidianità. For Cunn è importante seguire le stegi produzione, come planta tre, è quello che bisogna, e abbiamo tenuto a gamle tre. Abbiamo tenuto a tre, abbiamo tenuto a tre, abbiamo tenuto a tre di solopaca. La pressione è arrivata in Scandinavia, Norge, in Sveglia e anche in Italia per ristoranti con grande qualità. E quando si 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 è importante per Cunn è che ci sono prodotti e ci sono anche i miei genitori e ci sono stati, se è una demonstrazione in un pubblico e ciò che si può raccontare le persone che si può raccontare le persone che si si può raccontare le persone che 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 si può raccontare. La nostra azienda agricola Olivetica Stel San Martino produce olio extravergine di oliva da olive autoctone, coltivate nel sannio, quali l'ortice, la rascioppella e l'ortolana, coltivate con sistemi di lotte integrata ed ecosostenibile. Produciamo due ottimi blend. È un mono varietale. L'olio viene estratto a freddo entro 24 ore dalla raccolta. È conservato nel nostro laboratorio, lontano da fonti di calore e arrivato dalla luce. Garantiamo un prodotto di alta qualità. Grazie a uno stoccaggio che ci permette di tenere il nostro olio extravergine di oliva sotto azoto e a temperature controllate. Durante il processo di produzione il nostro olio non viene mai a contatto con l'aria. Grazie a tutti.